Il colpo di testa Il colpo di testa Il colpo di testa Vai in verticale a cercare Morello Morello col mancino Morello! L'avevamo appena detto Al primo pallone toccato Morello la mette dentro Col mancino Quanto è cresciuto questo giocatore Controllo col destro E diagonale mancino imprendibile 2 a 2 A Morello veramente È un killer instinct impressionante E qui c'è un fallo Però attenzione Perché Grande azione Del dosmo La deviazione La rete Qui forse c'era un mezzo fallo Sulla sinistra Masjadri ha chiuso il gol Qualche dubbio Comunque Masjadri l'ha messa dentro 3 a 2 FC baciamo le maniche Completa la rimonta Vuole provare Morello Il bomber Conta i passi Morello Pronto a partire Morello Va col destro Morello E diciamo che Il calcio di punizione Non è nelle sue corde E l'abbiamo visto tutti Palla altissima Già battuta Il coppotesta Di Morello Ma che bomber è Morello Ma che bomber è Morello Persino una rimessa laterale Che sembrava abbastanza in uoco Ha riuscito a trasformarla in oro 4 a 2 Baciamo le mani Veramente Un giocatore A dir poco decisivo Morello per i suoi Ponda questa volta sbagliata Poi commette anche fallo Morello Palla che rimane A Rogozic Che calcia In diagonale Palla fuori Non di molto Occasione per il Liverpool Liverpool scusate Massanelli in verticale Per Stefanini Che si gira benissimo Stefanini Stefanini Stato un gigante Al centro per Morello Ma cosa ha fatto Stefanini È partito in super gisù Adesso la Stefanini È servito un cioccolatino Per Morello Che ovviamente Non può sbagliare E poi una traversa clamorosa Colpita Baciamo le mani Che poteva chiuderla definitivamente Poi Marchesini Prova a ripartire Per un brutto pallone Rabiti 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 Va col mancino Rabiti Da Rodolfi